Da Catania a Siracusa passando per Ragusa, quasi metà della Sicilia in allerta rossa per il maltempo che si è abbattuto sull'isola. Il bollettino meteo, diramato nelle ultime ore dalla protezione civile, pone l'attenzione soprattutto sulla parte orientale e meridionale dell'isola, dove in molti comuni sono state chiuse le scuole. Il maltempo tiene inanzi agli abitanti di Sciacca, dove si registrano disagi a causa di un tombino saltato, con il conseguente aumento del livello dell'acqua che come un fiume ha poi attraversato tutta la città. Allagamenti anche nella zona lungomare e in alcune strade di Mazzara del Vallo, dove si è abbattuto un violento nubifraggio. Qui il fiume Mazzara non preoccupa, ma la situazione viene costantemente monitorata. Tempesta di fulmine e nubifraggio anche nel Ragusano. Allerta gialla invece nelle zone occidentali dell'isola e nel Palermitano, da ieri sotto la pioggia senza conseguenze. Il maltempo in Sicilia ha causato disagi anche per chi viaggia in treno. Le ferrovie dello Stato hanno infatti informato che fino alla normalizzazione delle condizioni meteo sono state sospese diverse linee ed ha programmato un servizio sostitutivo con bus nelle stazioni di Agrigento, Castelvetrano, Catania, Messina, Palermo e Siracusa. Intanto a Licata proseguono le ricerche di un ottantenne. L'uomo, un pensionato, era stato dato inizialmente per disperso, ma secondo i carabinieri si tratterebbe di un suicidio. Le sue ciabatte sono state viste galleggiare nel fiume Salzo, che nonostante la bomba d'acqua non è esondato. L'uomo, che era malato, sembra essersi lanciato dal ponte Federico II, dove è stata ritrovata la sua auto. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Palermo sono arrivati sul luogo all'alba per cercare il cadavere.